La prevenzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro inizia tra i banchi di scuola, grazie all'iniziativa della Direzione Regionale dell'Ineil, della Regione Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale e dei Teatri di Bari. Quest'anno c'è stato un aumento, nel 2016 rispetto al 2015, di circa il 5%. È un dato che ci sprona a fare di più e meglio. Siamo sull'ordine dei 30-31 mila a livello regionale infortuni ogni anno. Dobbiamo fare di più perché sicuramente la strada della prevenzione è quella che possiamo realizzare in concreto e su quello ci dobbiamo impegnare quanto più possibile. Prevenzione, appunto, in principio fu il teatro. Per ben quattro anni, studenti delle scuole pugliesi si sono cimentati in pièce teatrali sul tema delle morti bianche, ma quest'anno il linguaggio scelto per comunicare è ancora più vicino al mondo dei ragazzi. Video, spot, racconti e foto. A partecipare al concorso Scuola di Prevenzione Accorti e Sicuri, 3.000 studenti di quarto e quinto superiore di ben 50 scuole della regione. A dare loro una mano il regista Alessandro Piva, che ha realizzato sulla scorta degli spettacoli teatrali realizzati precedentemente sei cortometraggi che affrontano il tema delle morti nei luoghi di lavoro, con un linguaggio cinematografico diretto ma più che mai amaro. In palio dai 1.000 agli 8.000 euro, destinati all'acquisto di attrezzature e materiali utili a rendere gli edifici scolastici più sicuri, ad eleggere i vincitori, oltre a una giuria composta da tecnici e professionisti, anche il popolo del web. La regione ha finanzato il progetto per il 50%, destinando fondi derivati da sanzioni elevate a soggetti che non hanno rispettato le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora tocca ai ragazzi che entro il 10 maggio dovranno consegnare le proprie opere, che saranno poi presentate durante un evento in programma il 10 giugno.